Ben ritrovati in un nuovo video aracnofili, oggi siamo sempre in compagnia del solito spiderco milanista a spacchettare, oggi un altro pacco che mi arriva da Ivano da cui ho preso due bellissimi pezzi spiderco e ci accingeremo adesso a tagliare la solita scatola a prova di taglio che Ivano mi prepara ogni volta, quindi andiamo a tagliare vediamo se riesco stavolta senza tagliare lo scotch che è impossibile, vado a tagliare solo la prima parte ok ci siamo, mettiamo a posto questo senza farci male, in completa sicurezza e spulciamo qui i regalini, benissimo ancora pacchi su pacchi, riapriamo il coltello vediamo un po' se riusciamo a farlo uscire da qui niente, Ivano mi deve fare sempre soffrire diciamo allora uno e due allora apriamo prima quello più complesso, questo qua no spettacolare questo è il Massad Ayob numerato, ve lo zoomo guardato qui 789, è fighissimo, poi lo rivediamo meglio, oggi solo spacchettamento, questo è il Serrated e poi qui cosa abbiamo sarà difficile questo non strapparlo, non voglio spoilerare niente provo ad aprirlo da qui, proviamo da qua ok ci siamo udite, udite leggete bene qua eccovi qua, il Rubicon 2 bellissimo questo è veramente bello c'è noto a zoomare abbiamo visto il volo quindi con questo mini video velocissimo io chiudo l'unboxing aspetta che vi apro l'altro e ve li metto insieme così uno e due favolosi, due pezzi favolosi che si aggiungono alla mia collezione un caro saluto dal vostro doc questo è un caro saluto